Più che altro sta assumendo la fisionomia dell'allenatore, di Rastelli. Si vede l'imbronta, anche per il fatto che appena è arrivata ha dato subito la fascia di capitano a Casarini. C'è un'indicazione, il giocatore che ha più esperienza. Questi tre risultati, questi sette punti, sono ossigeno pura, ossigeno. Più che altro, è una cosa mia personale, per forza si tacca qualcuno, perché sinceramente l'Avellino basta che pareggia una mezza partita e si scadena il putifei. Quindi meglio così, più punti si fanno e meno gentaglia si vede scrivere sui social o commentare in mezzo alla strada. Guarda, ieri possiamo dire che è stata la prima gara bella che ha fatto l'Avellino. Sicuramente un secondo tempo più che il primo dove ci siamo divertiti. Era da parecchio tempo che non vedevamo una squadra del genere. Sono convinto che Rastelli ci sta mettendo il massimo, soprattutto sta mettendo la sua esperienza. sta facendo capire l'importanza della maglia che indossano. La partita di ieri sicuramente abbiamo fatto una delle migliori partite, una partita di carattere. Abbiamo finalmente anche Gambale ha trovato un nuovo gol dopo Catanzaro, che è una cosa importante, perché comunque è un ragazzo che dobbiamo dargli fiducia. Come Tito, che stava avendo un pochino di problemi, però ieri con la doppietta si è rilanciato. Quindi quella è la cosa principale. Diciamo che l'allenatore è quello che ci dà più garanzia di tutti, perché lavora molto sulla testa e quindi è capace anche di non farti notare che non c'è gente sugli spalti. Penso che il pubblico avellinese, soprattutto la curva, è un uomo in più. Infatti con Giuliano abbiamo proprio in quella serie di risultati positivi e abbiamo flopato proprio perché il pubblico non era presente. E ancora una volta paghiamo le ingiustizie della Lega per quanto riguarda questa squalifica di campo, dove noi siamo stati vittime a Foggia.